Ecco la guida all'archivio fiorentino, la consultazione da oggi è anche online. 17 anni salva un uomo colpito da infarto, premiato con le ali del Pegaso. Dal 23 settembre Montepulciano diventa la città del libro antico e rare. Nella patria della Chianina torna la fiera alla PR, appuntamento dal 30 settembre a Sinalunga. L'archivio del Consiglio regionale dedicato a Oriana Fallaci approda online e potrà essere consultato in ogni parte del mondo. Il tutto grazie al volume Il Cuore in Toscana, il Fondo Oriana Fallaci, inventario archivistico e catalogo bibliografico. Si tratta di una vera e propria guida per scoprire il fondo dedicato alla scrittrice fiorentina. Il fondo Oriana Fallaci è una ricchezza per tutta la Toscana, è una ricchezza per tutti noi. C'è un messaggio forte che passa, l'importanza di essere donne e uomini liberi. E il valore della libertà, il valore della memoria ha bisogno di essere coltivato. E allora noi vogliamo coltivarlo in questo senso, aprendo le porte di questa biblioteca, di questi spazi, del nostro archivio in tutto il mondo. Oggi è una giornata bella, importante e un primo passo, un passo che vogliamo continuare a portare avanti per fare in modo che quella memoria possa essere presente. Il libro è stato scritto da Katia Ferri, Elena Michelagnoli e Monica Valentini in collaborazione con Margherita Cricchio e Agnese Lorenzini. Si tratta di un vero e proprio inventario che riordina i quasi 2000 documenti che costituiscono il fondo, nato dalla donazione dell'erede di Fallaci al Consiglio regionale della Toscana. Io, come tutti quelli che hanno a che fare col suo lavoro direttamente, sentiamo molto questa giornata perché l'archivio rappresenta un passo fondamentale per mettere a disposizione il lavoro di Oriana e anche in certo senso parte della sua vita, perché gli oggetti contenuti nel fondo, i suoi scritti personali, le lettere, sono evocativi e servono molto a capire come questa donna non solo lavorava ma anche come ragionava e come era fatta, quanto era legata alla sua famiglia e a questa città naturalmente. Il fondo, il più grande di quelli dedicati alla scrittrice, raccoglie il materiale archivistico, i libri e gli oggetti personali di Oriana Fallaci che si trovavano nella sua abitazione toscana, a Casole. C'è un tassello toscano a questo punto importante, perché? Perché Oriana sta a Firenze come Henry Ford sta a Detroit. Senza Detroit non c'è la Ford, senza Firenze non ci sarebbe stata questa Oriana e quindi avere il fondo in Consiglio regionale è la cosa giusta. Un fondo che spazia dagli appunti agli oggetti personali attraverso i quali è possibile intercettare lo sguardo di Fallaci sul Novecento. Sicuramente un archivio che racconta Oriana Fallaci, che Oriana Fallaci ha voluto, quindi che porta il filtro anche della sua volontà di memoria, di se stessa, del lavoro che ha fatto, del mondo che ha visto e quindi anche del mondo come l'ha interpretato. Ed è un archivio che racconta non solo Oriana Fallaci, ma racconta una parte del Novecento. Quindi diciamo c'è la sua interpretazione del secolo, ma c'è anche il suo sguardo, che è uno sguardo anche femminile, nonostante lei abbia voluto che sulla tomba ci fosse scritto scrittore. E oltre a rivelare il pensiero della scrittrice, l'archivio permette anche di conoscere i segreti del suo lavoro. Credo che l'importanza di questo fondo sia il scoprire il lavoro minuzioso e la personalità della Fallaci dietro le quinte. Quindi tutto quello che era di preparazione ai suoi straordinari articoli, ai suoi straordinari libri. Questa magica scrittura della Fallaci in realtà ha dietro un grandissimo lavoro, una grandissima fatica. Era sempre una donna con l'elmetto, anche con la scrittura, lei lo diceva questo, però il risultato era straordinario. Una molle di materiale imponente, accessibile anche online. Con questa pubblicazione, che tra l'altro è anche in formato digitale sul nostro sito, è possibile per chiunque, quindi non solo studiosi, ma anche curiosi, appassionati, amanti della scrittura di Oriana Fallaci, vedere che cosa possediamo e fare eventualmente richiesta per consultare questo materiale. Trovate tutte le indicazioni sui nostri siti, ci sono due pagine dedicate, una della biblioteca e una del consiglio, e c'è un indirizzo mail comune al quale fa riferimento per qualsiasi informazione, anche per ricerche che noi possiamo fare a distanza. L'indirizzo è fondofallaci.chiocciolaconsiglio.regione.toscana.it Tutti i link sono disponibili sul sito www.consiglio.regione.toscana.it Una serata di luglio, una festa in parrocchia con tante famiglie, mentre passeggia con il figlio piccolo, all'improvviso un uomo cade a terra privo di sensi. È un attimo, Alessandro Dioni, boy scout di appena 17 anni, si avvicina, sente che il cuore non batte più. Lo studente inizia subito il massaggio cardiaco e poi, con l'aiuto di un altro genitore, recupera e mette in funzione il defibrillatore della parrocchia, proprio come gli è stato insegnato a scuola. Marcello, il 52enne colpito dal resto cardiaco e salvo. Alessandro, il suo soccorritore, diventa subito un eroe, premiato con le ali del Pegaso del Consiglio regionale della Toscana. Le ali del Pegaso è nato qualche mese fa, abbiamo deciso di premiare e di valorizzare le eccellenze, i gesti più importanti da parte delle ragazze e dei ragazzi della nostra regione e questo è il motivo che oggi ci porta a premiare Alessandro. Abbiamo voluto mandare un messaggio con questo premio, un messaggio che non bisogna voltarsi dall'altra parte, che bisogna mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare le vite umane. E questo è quello che ha fatto Alessandro. Una storia lieto fine, fatta però di momenti molto difficili. I momenti più difficili sono soprattutto quando vedi il bottone verde, il defibrillatore ti dice shock consigliato e è il momento di cliccare e vedi la persona che pervasa dalla scossa elettrica praticamente si stacca da terra e vedi questa immagine che non è proprio una cosa felicissima. E poi anche il momento in cui ci siamo accorti che non c'era battito e tocchi il corpo e cerchi le vene ma non c'è pulsazione. Sicuramente mi ha segnato e me lo porterò per sempre dentro e sicuramente non dico di essere più responsabile o nulla ma alla fine a parte il boom giornalistico che c'è stato non mi ha cambiato molto a parte la prima settimana che magari qualcuno mi fermava e faceva eh complimenti sei quel ragazzo che ha salvato Marcello però se no non è cambiato molto diciamo. Alessandro è stato chiamato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a partecipare alla cerimonia di apertura dell'anno scolastico che si è tenuta qualche giorno fa al Quirinale anche perché la scuola ha avuto un ruolo determinante in questa vicenda grazie a un progetto di primo soccorso che coinvolge gli studenti fin dal primo anno. È un progetto fra 118 fra il provveditorato agli studi di Arezzo è un percorso dove insegniamo la tecnica del BLSD quindi della rianimazione sia con il massaggio cardiaco che anche con il defibrillatore. Io appunto con Alessandro con questa classe ho iniziato dalla prima abbiamo diciamo fatto diverse lezioni utilizziamo il manichino per il massaggio cardiaco in modo che la procedura del BLSD che è una procedura, è un protocollo internazionale sia ben chiara l'obiettivo è chiaramente istruire più persone possibili perché se abbiamo vicino uno che può fare ciò è comunque una garanzia, è una sicurezza. Non solo vino, con l'inizio dell'autunno Montepulciano diventa anche la città del libro antico e raro il 23 e il 24 settembre il Borgo ospiterà infatti la prima edizione della manifestazione tutta dedicata alle pubblicazioni del passato. Credo che sia un'ottima occasione questa che Montepulciano sta accogliendo di promuovere attraverso oggetto libro la cultura della nostra storia e poi anche la cultura in generale un rapporto con il sapere, con la lettura che assume anche una veste appunto quella di rapporto con gli oggetti di collezionismo degli oggetti. Una manifestazione completamente nuova che punta ad arricchire l'offerta turistica di Montepulciano e ad attrarre nuove tipologie di visitatori. Quindi la notte è stata un'operazione sul futuro una semina, la speranza che continuino ad esserci studiosi di scienze umanistiche che proseguano questa tradizione che è tipicamente toscana e oserei dire all'interno della Toscana tipicamente fiorentina che è partita alla fine del 400 e che io spero sopravviva per altri 500 anni. Ha una storia di oltre 100 anni tanto che la data esatta della sua prima edizione si perde nei meandri della memoria popolare. Torna dal 30 settembre a Sinalunga la patria della Chianina la fiera alla Pieve un appuntamento che affonda le radici nella tradizione rurale del territorio e che nel tempo ha saputo rinnovarsi e guardare al futuro. Un evento centenario che valorizza un territorio importante ma che è anche una festa per la Toscana. Si parla della nostra storia si parla delle nostre tradizioni si parte dalla fatica nel lavoro dei campi per arrivare a messaggi più vicini a noi oggi alla necessità di valorizzare la filiera corta alla necessità di investire in agricoltura in agricoltura di prossimità ecco questo è un momento in cui si parla del nostro passato ma si parla anche del nostro futuro si mantiene insieme le tradizioni con le innovazioni e si fa a Sinalunga uno dei borghi più belli della nostra regione. La fiera si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre per poi riprendere nel fine settimana del 7 e 8 ottobre. Si tratta di uno degli appuntamenti più estesi della Toscana con la presenza di quasi 600 espositori. Oggi rappresenta quindi un momento economico dove si promuove insomma attraverso gli street food attraverso la ristorazione, attraverso l'enogastronomia attraverso il vino, quello che è quel territorio. Apriamo il 30 quest'anno per la prima volta con la fanfara dei Carabinieri che viene da Roma quindi un evento anche importante quindi anche un aspetto musicale e soprattutto legato in quell'occasione lì ha un aspetto importante di solidarietà perché insomma gli incassi di quella prima giornata di quelle prime iniziative andranno al Maier di Firenze. Per questa edizione è tutto potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina Grazie per la visione!